8 ragazzi giapponesi, 8 ragazzi della Corea del Sud e 8 ragazzi dell'Appennino Tosco-Emiliano si sono confrontati in tre workshop internazionali per realizzare una nuova storia attraverso il fumetto e l'animazione digitale. Qui in Garfagnana con Giuseppe Panum e della sua collaboratrice Keiko Ichikuchi stiamo elaborando una serie di fumetti andandoli a fare direttamente nei luoghi che sono stati scelti come background. Grazie a tutti. Grazie a tutti.